C'era una volta un leone, sto leone enorme, faceva paura a tutti, in un villaggio africano proprio, di quelli dove, nella notte dei tempi, che non è che ci sono i cellulari, la notte dei tempi in Africa, primordiale, sto leone enorme, accanto al villaggio, che terrorizza bambini, donne, vecchi, tutti, anche gli adulti cacciatori, terrorizzati a questo leone che si aggira intorno al villaggio, appena ti muovi non sai mai se ti becca. A un certo punto nacque una ragazzina, questa ragazzina era una di queste ragazzine intelligenti, forti, con una personalità meravigliosa e anche priva di paura, coraggiosissima. Sta bambina si addentrò nella foresta vicino al villaggio perché voleva parlare con il leone. Tutti dicono vabbè ormai l'abbiamo persa e non la ritroveremo mai più. Questa ragazzina trova il leone, inizia a parlarci, dice ma guarda leone che fare così non ti conviene mica tanto perché così un pochino poi dopo magari finisce che non hai più da mangiare perché ci ammazzi tutti, cosa vuoi fare? Magari se vieni da noi, stai lì, ci proteggi, noi ti diamo da mangiare, una vita più sicura, no? Noi stiamo tranquilli e rilassati e tu non ti stressi così tanto. Leone ci pensa e ne conclude che effettivamente la ragazzina non ha tutti i torti. Quindi il leone entra nel villaggio insieme alla ragazzina, tutti spaventatissimi, però vedono che la ragazzina è lì accanto che la carezza e tutti dicono ma va bene forse andrà bene così? E dopo un po' il leone fa una bella vita, pasciuta, ingrassa, difende il villaggio, il villaggio diventa il più potente della zona perché ha questo leone incredibile, nessuno osa sfidare questo villaggio. Dopo un po' questo leone smette di ingrassare e comincia a dimagrire, comincia a dimagrire, comincia a perdere il pelo e nessuno lo capisce, nessuno lo capisce. E finché alla fine sta per morire la ragazzina arriva da lui e dice leone ma io non riesco veramente a capire ma cosa è successo? E il leone dice sai è vero così si sta meglio però non sono più un leone. allora attenti ai compromessi che accettate perché a volte anche quelli più convenienti di tutti se non calcolate le conseguenze possono farvi perdere chi siete veramente e se perdete chi siete veramente qualunque comodità non serve più a niente. Occhio da chi e quanto vi fate addomesticare. Occhio a non perdervi. Ciao.